Si è sfondato il tetto e uno dei ragazzi è caduto in terra lì, qui dove è stato rinvenuto il braccialetto, sporco di sangue. Ha fatto un volo di circa 6 metri precipitando dal foro sul tetto che vedete alle mie spalle. Un grave incidente questo pomeriggio ad Arezzo per un 14enne che ha riportato serie conseguenze. È successo all'interno di un'area commerciale dismessa in via Sette Ponti a pochi passi dal centro storico dove il ragazzino è entrato assieme ad altri due giovanissimi. Da questo buco che è stato rotto alla rete e da dove sono venuti dentro lo stabile per vedere cosa c'era dentro. Una volta dentro allo stabilimento il 14enne è riuscito a salire sul tetto. Si è sfondato il tetto e è caduto in terra. È stato soccorso dall'ambulanza e dai vigili del fuoco. Il 14enne, a causa del volo, che avrebbe potuto avere conseguenze anche ben più gravi, ha riportato serie traumi. È stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso. Non è in pronti riservata, almeno all'inizio ci hanno detto sì, però ha diverse lesioni. Ancora da chiarire i contorni della vicenda, intanto il Comune sta già provvedendo a mettere in sicurezza l'area. È stato avvisato il curatore fallimentare e nel frattempo una ditta del Comune provvede a chiudere i varchi aperti per accederci dentro.